Si è tenuta a Gallicchio per il terzo anno, scatto per conoscersi, un concorso fotografico di una mostra concorso di fotografia digitale la cui proclamazione del vincitore è stata effettuata il 3 gennaio grazie al patrocinio del Comune, della Proloco e del gruppo Facebook Dipingere con la Luce. Nella stessa serata è stata inaugurata la mostra fotografica dove sono state esposte 20 foto selezionate. Il promotore dell'iniziativa ha ormai da tre anni Antonio Di Pierro, al quale va dato merito di aver creato un gruppo insieme ad altri sui social che conta più di 150 iscritti. La mission della mostra concorso è stata quella di far conoscere attraverso uno scatto fotografico la propria terra, regione, cultura e tradizione. Lo scorso anno le foto giunte via online che hanno partecipato al concorso furono ben 98 su 34 autori di paesi e nazionalità diverse. spaziando dall'Italia del nord ma anche dall'estero come la Romania, il Kenya, l'Africa, l'Australia. A vincere fu Laura Begin, in arte Laura B, dal Veneto della provincia di Padova. La sua opera è intitolata La tranquillità dell'animo, raffigurante la laguna veneta. Teresa Lardino di Alliano e Ivan Fioravanti dal Piemonte Salò, secondo e terzo classificato. Henri Cartier-Bresson, uno dei più grandi della fotografia del Novecento, affermava che la fotografia è la testimonianza di come si possa documentare una realtà, di come si può creare anche una successione letteraria del poeta. Ovvero è un'illusione che le foto si fanno con le macchine fotografiche super tecnologiche, le foto in realtà si fanno con gli occhi, con il cuore e con la testa. È necessario sentirsi coinvolti di ciò che si ritrae attraverso il mirino. Fotografare è quello che sta nella stessa linea testa, occhio e cuore. Se non si tocca con il cuore, perché non si è vicini con il cuore a quello che si ritrae. La premiazione sarà effettuata poi in agosto in occasione delle manifestazioni estive da parte della Proloco di Gallicchio.